Sono concentrato soprattutto nella periferia cagliaritana le case popolari, insomma gli alloggi ERP inizia una nuova avventura politica anche per Annaputu, consigliera di campo progressista e appunto il tema delle case popolari salta subito all'occhio, assolutamente anche grazie a una sua interrogazione. Sì, salta subito all'occhio nel senso che Cagliari soffre il problema del disagio abitativo che è chiaramente dimostrabile dai numeri delle persone incluse per l'assegnazione delle case popolari, dalle persone che vivono attualmente in casalbergo così come appunto dalle persone inserite negli alloggi a canone concordato. Come Presidente della Commissione Lavori Pubblici nella scorsa legislatura avevamo dato delle indicazioni appunto ben precise, pensando che comunque il problema della casa sia un problema fondamentale della città, delle indicazioni precise anche non soltanto rispetto al diritto alla casa, quindi alla necessità di costruire nuovi alloggi di edilizia sociale, per dare appunto risposta ad un bisogno fondamentale delle persone, ma anche riuscire a intervenire con interventi di manutenzione appunto programmata, visto che la mia estrazione comunale spende circa 1.800.000 euro l'anno per realizzare appunto interventi di manutenzione straordinaria. Riseniamo quindi che sia impensabile che si continui a intervenire sugli alloggi di edilizia sociale con interventi parziali e temporanei, oramai troppo tardi quando gli immobili sono vetusti e degradati, e quindi che sia arrivato il momento dopo tanto tempo, sia appunto di fare una manutenzione programmata di medio e lungo periodo, che è anche appunto essenzialmente di costruire nuovi alloggi popolari o riconvertire gli edifici pubblici dismessi per dare una risposta alle persone che soffrono del problema della casa. Nuovi alloggi popolari dove per esempio si possono costruire e realizzare? Diciamo appunto sicuramente è possibile utilizzare appunto delle zone dove ci sono appunto dei piani attuattivi, appunto parlare appunto di città metropolitana, ma soprattutto anche dare una risposta con i tanti, e con i tanti stabili disusi che ci sono in città.